ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube videocorso online di Cubase in questo video utilizzeremo la versione Cubase Pro 10.5 e andremo a vedere come collegare i cursori del progetto e dell'editor nell'area inferiore lanciamo il nostro programma attendiamo che si apra selezioniamo sempre un progetto vuoto empty per fare una prova selezioniamo la cartella io sempre la mia cartella prove sul desktop mi si apre il mio progetto di Cubase a questo punto creiamo per esempio non solo una traccia midi ok che la chiamiamo prova creata la mia traccia midi mi crea una parte midi per esempio dalla battuta 1 alla battuta 17 come potete vedere qua sotto si è creata diciamo così una parte una parte midi che va dalla battuta 1 alla battuta 17 ok come potete vedere il momento cui io allargo questa videata qui e allargo questa per esempio restringo questa le due schermate diciamo che sono indipendenti e questo diciamo così è una funzionalità nel senso che io se voglio appunto modificare solo questa parte e non quella inferiore posso farlo diciamo di default in Cubase è già preimpostato così però molte volte è utile diciamo per una questione diciamo così di praticità del diciamo della scrittura o dell'esecuzione eccetera di poter collegare e quindi fare in modo che i cursori appunto del progetto e dell'editor siano agganciati insieme come si fa come vedete qui in alto a sinistra c'è una specie di catena ok una specie di catena con due due ganci diciamo se noi ci posizioniamo sopra c'è scritto proprio collega i cursori del progetto e dell'editor nell'area inferiore ok quindi se questa funzione è attivata quindi diventa bianca ok io nel momento in cui allargherò la mia parte vedete che anche nella parte superiore viene allargata la parte ok quindi questo è molto utile perché nel momento in cui io vado ad allargare la mia parte mi troverò esattamente nella stessa posizione sia in questa parte inferiore che in quella superiore stessa cosa se rimpicciolisco questo vedete sono agganciate insieme ok quindi se io faccio per esempio un'altra parte midi non so metto un'altra battuta qua ok quindi metto il mio left right locator questa posizione crea una nuova cosa mi posiziono qua per esempio se io allargo vedete che si è spostata subito al centro questa videata non so se avete notato rivediamolo un attimo allora noi siamo in questa posizione qui per esempio rimpiccioliamo un po andiamo qui nel momento in cui io allargo la mia parte vedete con il più con il meno mi si porta direttamente nella parte centrale e questo è molto utile perché appunto io ho la possibilità di vedere sia quella parte superiore che la parte inferiore cosa diversa se questo pulsante è disabilitato ok io mi potrei trovare magari a lavorare su una parte appunto che si trova qua in fondo ok vedete la storia impicciolendo ma in realtà la mia videata qui io non la sto vedendo ok per esempio se il mio cursore si trova più avanti nel brano ok io a certo punto non lo vedo più quindi se per esempio il cursore quindi è qua ok io vado a editare questa parte qui vedete io allargo questa ma la mia videata non si sposta se invece appunto questo è attivato collega i cursori del progetto dell'editor nell'area inferiore nel momento in cui io vado a allargare per esempio la mia parte vedete che si allarga automaticamente anche quella sopra quindi diciamo che è una specie di sincronizzazione della possibilità appunto del cursore di poter allargare appunto o rimpicciolire la videata ok quindi per questo video è tutto abbiamo visto come collegare i cursori del progetto e dell'editor nell'area inferiore io vi ringrazio per averlo visto se vi è piaciuto lasciate un like e se avete commenti fatele insomma sotto nel video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e come termino sempre nei miei video la cosa fondamentale al di là della tecnologia è sempre quella di utilizzare le proprie orecchie un saluto a tutti al prossimo video ciao